4 milioni e 800 mila euro per la manutenzione ordinaria sulle opere di seconda categoria a tanto ammontano le risorse per il 2017 che la regione assegnerà ai consorsi di bonifica come prevede la convenzione che è stata appena approvata. Per quanto riguarda il consorzio di bonifica della provincia di Arezzo arriverà 1 milione e 300 mila euro per i consorsi alto e medio Valdarno. Come prevede la legge regionale 80 2015 ha spiegato l'assessore all'ambiente Federica Fratoni che riserva alla regione tutte le funzioni di pianificazione e programmazione in materia di difesa del suolo compresa la manutenzione e gestione delle opere idrauliche di seconda categoria la regione può avvalersi dei consorsi di bonifica per questa attività. Prosegue dunque l'impegno costante sulle attività di difesa del suolo. La manutenzione ne costituisce un aspetto fondamentale per il quale la regione ha riformato profondamente il sistema dei consorsi creando realtà adeguate per dimensione e capacità finanziaria. Con questo atto vengono destinate anche per il 2017 risorse consistenti per garantire l'efficienza del vasto reticolo. Saranno ora i consorsi a questo punto a individuare i tratti dei corsi d'acqua che saranno oggetto di manutenzione e trasmettere lo schema alla regione entro il 15 gennaio.